Allora, tra poco alle 18 a base Milano a Book City presenterò La disuguaglianza fa bene. Ha accettato l'invito di presentarlo insieme a me anche Beppe Sala, il sindaco di Milano, ovviamente su posizioni diverse. Lui è un uomo di sinistra, rivendica il fatto di essere di sinistra, io sono un uomo di destra e rivendico il fatto di essere di destra. Diciamo un po', io sono una sinistra liberale e lui è una sinistra non comunista. Se volete vedere la presentazione a Milano questa sera alle 18 potete venire a vederla. Parleremo anche di sicurezza sicuramente col sindaco Beppe Sala. Mi diverte molto oggi la Repubblica che ha detto che io stasera presenterò Beppe Sala a Book City. E' esattamente il contrario, cioè nel senso che per pensare di Dio converseremo del mio libro. Mi diverte come c'è questo tic da parte della Repubblica di pensare che un liberale non possa scrivere un libro, non possa essere presente a Book City. Sì, dietro c'è l'albero perché l'abbiamo già fatto, l'albero. Viva il Natale! Allora, uno dei capitoli che dedicherei oggi ai giornisti di Repubblica, che non possono pensare che uno di destra faccia un albero, è il capitolo VI. Questo anche la destra legge, questo è il libro, la diseguglianza va bene, anche la destra legge. Cito il Manzoni, I Promessi Sposi, nel senso che anche la destra legge perché ci sono tanti libri di destra che ci hanno sempre raccontato non essere tali. Manzoni è il più grande liberale di destra, è quello che ci ha spiegato cosa fosse esattamente il funzionamento dei prezzi. Manzoni, I Promessi Sposi, Gibson, Neuromante, Ayn Rand, che è adorata per me la fonte meravigliosa, La favola delle api di Mandeville, Anatole Franz, La violenza legale, anche se Franz certamente non può essere definito un liberale, ma un socialista, e poi infine Ulbeck, Sottomissione. Sono i libri che io consiglio di leggere a quelli che non sono di destra e che è scritti da persone non necessariamente etichettabili come uomini di destra, ma che sono straordinariamente attuali. L'idea è che gli intellettuali non possono pensare che un liberale di destra scriva un libro, allora oltre a dedicare anche la destra legge il sesto capitolo, dedico il capitolo quinto, che si intitola Io a Capalbio non ci vado. Su anche la destra legge vorrei, Popper è un grandissimo, avete ragione, Popper è un grandissimo, l'ho citato più volte in questo libro, ma non ne ho dedicato un capitolo a parte. Questo è un libro che in realtà non ha nessuna pretesa di essa ostilità, è un libro che è fatto semplicemente per prendersi qualche appunto. La destra, gli lettori di destra, non amano solo il sedere delle donne, scrivo io, ma molti di loro anche leggere, non che l'una cosa sia in contrasto con l'altra. Il riferimento è al famoso appello al voto lanciato da Umberto Eco nel 2001 su Repubblica. Il semiologo vergò un appello, l'ennesimo, in cui tracciava una differenza antropologica tra gli italiani in funzione delle loro passioni politiche. Gli elettori di destra sono coloro che salendo in treno comprano indifferentemente una rivista di destra o di sinistra purché ci sia un sedere in copertina. Eco e tanti intellettuali come lui hanno sempre raccontato la favola taluni credendoci altro per difesa degli spazi che la destra in sindesi non legga. Così non è. Bene, Francesco, sono contento che tu abbia finito di leggerlo ieri. A Natale, questo è l'albero, lo vedete nella sua bellezza, è un albero straordinario, e a Natale regalate la disuguaglianza. Fa bene. Adesso io mi bevo un po' di caffè. Adesso fra un po' mi preparo mi faccio anche la barba che voglio stare un po' ordinato. no, non è ancora denate, però viva il Natale. Allora, a Natale avete l'occasione per ordinare, ne abbiamo ristampato per la quarta volta, così mi ha detto, mi ha raccontato Elisabetta Sgarbi, l'editrice, no, come fa male il caffè, che pizza, tutto fa male, io me ne bevo un altro po'. Allora, mi ha detto Elisabetta Sgarbi che hanno fatto la quarta edizione del libro, la quarta ristampa, scusatemi, quindi vorrei dirvi di sbrigarvi e andare assolutamente a comprarlo, fatene incettane di librerie, perché è il regalo che dovete fare ai vostri amici di sinistra, snob e saggenti, a parte le battute, anche a quelli che ancora non hanno capito che cosa vuol dire essere liberale e quanto fa bene, come dice Daria, oggi essere liberali. L'albero è fantastico, devo dire. Noi ci vediamo alle 18, per chi non ha ancora molto da fare qua a Milano, alle 18 non è talmente schifosa oggi come tempo che forse ce la fate, alle 18 qui dalle parti di Via Tortona, bravo, Daniela, se Amazon c'è e ne è ordinati 5 per Natale, mitica Daniele, quindi ordinatelo su Amazon, se non lo trovate nelle librerie, comunque c'è in tutte le librerie, poi se partite e prendete un volo, in genere nelle librerie degli aeroporti c'è, ordinatelo e regalatelo con una bella dedica a chi questo libro non lo vuole leggere, o che non avrebbe nessuna voglia di leggerlo, insomma abbiamo ancora un bel po' di tempo per fare propaganda alla nostra disuguaglianza fa bene. Questa sera alle 18 a Milano, ho scritto in epigrafe dove, sì a Salerno, ma voglio venire sempre che non mi meni De Luca appena mi vede da quelle parti. Ottimo questo caffè, vi do appuntamento a più tardi.